Non poteva che essere lui il principale protagonista di questa 37esima edizione del trofeo internazionale di nuoto Vittorino da Feltre. Giacomo Carini era infatti l'ospite più atteso e non ha tradito le aspettative. È stato un buon allenamento in vista dei mondiali di luglio a Budapest per il campione di casa nostra, capace di mettere un oceano tra sé e gli altri nei 50 metri farfalla, nei 100 e 200 metri stile libero e ovviamente nella sua specialità, i 200 metri farfalla. Oltre ai complimenti e all'incoraggiamento del pubblico in vista del prossimo impegno nazionale, Carini ha incassato anche un ringraziamento speciale da parte del neo eletto presidente della Vittorino, Roberto Pizzamiglio, che ha definito il nuotatore piacentino un esempio importante per tutti i nostri giovani.